Quando si parla del carnevale si parla del DNA della città di Fano, quindi più che un evento, più che un evento importante. Quindi l'importanza in un periodo come questo di mantenere un settore come quello del carnevale, come tutto l'indotto che crea, come tutti coloro che lavorano nel carnevale, era per noi fondamentale. Quindi un carnevale un po' rivisto, quindi un carnevale statico ma altrettanto bello che saprà raccontare appunto il nostro DNA e quindi la possibilità nel periodo estivo di venire, di trovare, di toccare con mano ciò che siamo e di prepararci per quello che sarà il carnevale 2022, che sarà bello, che avrà il getto dei dolciumi, che avrà tutto quello che noi abbiamo sempre conosciuto. Quindi un ringraziamento veramente a tutti gli operatori perché stanno facendo un lavoro enorme e con questo lavoro aiuteranno anche tutto il comparto economico, quindi le attività che sono nella zona mare, nel centro storico, perché il carnevale si muoverà in questi due assi, aiuterà la città a ripartire. Oggi presentiamo il programma del carnevale estivo chiamato Estatico perché sarà in forma statica come vuole il protocollo Covid. Avremo due weekend, gli ultimi due weekend di agosto molto interessanti, frizzanti, sempre nel nome di Dante. Vi cito qualche evento più significativo. Ci saranno con noi Murubutu e Clavergold, i due rapper che hanno rappato l'Inferno di Dante. Ci sarà inoltre uno spettacolo un po' piccante di Imi Silli Noir, che è un'artista che fa burlesque, perché siamo all'inferno. Così come musica rock, spazi dedicati ai bambini, a cura dell'associazione Cartone, l'ASET che promuove dei laboratori del riciclo. E in centro storico, l'ultimo weekend, ci sarà una grande caccia al tesoro dove parteciperanno e saranno coinvolte tutte le associazioni della città, dai bagnini, le spiagge, le fazioni della città. E chi vorrà ovviamente turisti, ospiti degli alberghi. E chiuderemo con un grande concerto di Samuel dei Subsonica all'Arena BCC, organizzato da Onstage in collaborazione con l'ente carnevalesca.